e buonasera siamo la tabaccheria valicelli qui solo pezzi di qualità perché lo dico ora giro la camera vi faccio vedere ragazzi qua siamo nella vetrina d'ingresso guardate che bella schiuma guardate che bella calabash guardate questa pipa fatta da polo croci bellissima questa church water della savinelli si dico bene ma soprattutto ragazzi affarone pezzo unico chi l'avrà mai fatta questa pipa chi l'avrà mai fatta cioè che pezzo che capolavoro va bene ragazzi io vi abbraccio prezzo incredibile pezzo 1080 euro 1080 euro cioè ragazzi una bazzeccola per questo capolavoro di pipa fantastico allora ragazzi io vi saluto vi abbraccio come dicevo tabaccheria panicelli solo pezzi di qualità a a a a Grazie a tutti